È il giorno libero di Chiari. Non lasciare che succeda niente di strano, Walter, ok? Contiamo su di te. Ti stai prendendo un gelato? Walter, dietro di te! Oh no, il dinosauro sta spaventando tutti quanti! Un dinosauro sta attaccando la città! Eccolo là! È un T-Rex! Ehi, fai attenzione! Penso che stesse provando a giocare con te! Rezo! Deve essere veramente affamato Forse il super camion vuole che tu e lui siate amici E' tempo di giocare Prendimi se ci riesci Stai informando le auto del dinosauro Non preoccupatevi ragazzi, non ha alcuna intenzione di farvi del male Vedete? Che cos'è, Walter? Un altro dinosauro E' la tua mamma Sicuramente ti sta cercando Quello dovrebbe catturare la sua attenzione Eccola qui Mamma sta arrivando Possiamo avere amici Anche se sono diversi da noi Ci vediamo la prossima volta Buongiorno Massimo Ciao Carla Ma che state? Oh, hai preso dei nuovi cerchioni per la tua mamma Oh, ma certo E' la festa della mamma Sembra proprio che tu abbia una consegna speciale Carla E' meglio che tu vada a casa subito I piccoli hanno chiesto a Carrie di aiutarli a fare dei cupcakes per la festa della mamma Ma la loro macchina è impazzita E sta tirando impasto dappertutto Può essere molto pericoloso Carla, puoi dargli una mano? Grandioso E allora andiamo Fai attenzione, super camion Tieni duro, Carrie Super camion è qui per aiutarci Wow, sei diventata super carri E stai proteggendo i piccoli in maniera che non vengano toccati Oh, cielo Super camion, come farai a fermare tutto questo? Super camion, abbiamo fiducia in te In che cosa ti trasformerai? Super camion, come farai a fermare tutto questo? Come farai a fermare tutto il giorno wow super camion sei un rullo compressore è stato veramente incredibile super camion la macchina si sta surriscaldando super camion fai qualcosa prima che esploda se hai un'idea di come fermare questa collina è ora di metterla in pratica fai veloce super camion wow si è ghiacciata magnifico c'è mancato veramente poco veloce super camion ce l'hai fatta super camion hai creato un impasto ghiacciato e salvato la giornata carrie e i piccoli vorrebbero che tutti unissi a loro per il loro tè della festa della mamma ritroviamoci qui fra un'ora e diciamo anche a massimo di venire grazie per tutto quello che hai fatto oggi super camion non saremmo riusciti a fare questa festa senza il tuo aiuto oh carrie ha qualcosa di speciale per te non preoccuparti super camion carrie non ha utilizzato l'impasto che stava rotolando per le strade ne aveva nel suo freezer e vuole fare un super cupcake gigante da dividere con la tua mamma buona festa della mamma a tutte le mamme ovunque si trovano sembra che la squadra costruzioni si sia presa una pausa e carl stia giocando un po' a pallavolo devi fare più attenzione carl a qualcuno serve il super camion devi andare carl carl abbiamo una situazione da risolvere al circuito jerry stava attraversando il super anello quando ben accidentalmente ha rovesciato della colla sul percorso jerry ci è andato sopra e adesso è incastrato entrando nell'anello ha cominciato a rallentare ed è rimasto incastrato proprio nel punto più alto oh 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 Oh, la colla è dappertutto! Ehi Ben, fai attenzione! C'è mancato veramente poco! Non conviene guidare sulla super colla, altrimenti rimarrai incastrato anche tu! Cosa dici, super camion? Pensi che questa sabbia potrebbe riuscire a neutralizzare la colla e quindi a rendere il percorso di nuovo fruibile? Molto bene, ma come riuscirai a portarla fin lassù? Okay. Tieni duro, Gerry! Il super camion sta arrivando in tuo soccorso! Sì, la sabbia ha neutralizzato la colla e ora non è più appiccicosa! Oh cielo, ma guarda il sole! È veramente caldissimo oggi! Oh no! Le alte temperature stanno sciogliendo la colla! Gerry potrebbe cadere in qualsiasi momento! Super camion, fai qualcosa! Ah, ben fatto, Ben! Mi stai dicendo che questo dovrebbe proteggere Gerry in caso di caduta? Ok, ma non possiamo aspettare che lui cada! Super camion, è veramente troppo alto! Non riuscirai mai a raggiungerlo in questo modo! E neanche così sta funzionando! Penso che ci sia un solo modo che può aiutare! L'ST3000! Oh, capisco! Stai per tagliare con il laser tutta quanta la colla! In questo modo Gerry potrà cadere su quella pila di gomme! Sei un genio! Però fai attenzione, super camion! Non vorrai colpire Gerry con quel raggio laser! Ce l'abbiamo quasi fatta! Sì! Gerry, stai bene! È tutto ok! Qual è il problema, Gerry? Oh, sei preoccupato che si sia danneggiato il super anello! Oh, cielo! E che cosa vuoi farci? Cosa, super camion? Puoi pulirlo! Ma come? Ben fatto, super camion! Sei riuscito a pulire l'anello! E ora Gerry può attraversarlo un'altra volta! Non è vero, Gerry? 3, 2, 1... Via! Sì! Ce l'ha fatta! Urrà! Gratte, super camion! Ancora una volta! Hai salvato la giornata! Wow! Marley e Carla stanno facendo gli stuntman oggi! Wow! Un 5 alto pienamente meritato! Continueremo ad allenarci più tardi, Marley! Ah! In città c'è un improvviso blackout! Wow! L'intera città è senza energia! Wow! Carl, devi assolutamente salvare la nostra città! Super camion si sta chiedendo se esiste un qualsiasi altro modo per generare energia! Dane dice che un modo ci sarebbe! Una turbina eolica che possa caricare il contenitore di energia! Ecco la soluzione! Oggi però non c'è vento! Davvero? Hai un'idea, super camion? Oh! 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 Un super treno! Wow! Ma è magnifico! Ehi! Una trovata molto interessante super camion! Wow! Ehi! 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 Così farai funzionare la turbina prendendo velocità e generando tu stesso il vento! Ehi! 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 Oh no! Stava andando tutto così bene! Prova ancora super camion! Mamma! Ah! Coraggio! Vai avanti super camion! Oh! 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 Oh no! Non ancora! Oh! Sì è vero! Dobbiamo fare in modo che quelle auto non ci interrompano più! Oh! L'ST3000! Ma certo! Ah! Un impianto ai pai! Ma è meraviglioso! Ah! Attenzione! Oh! Coraggio! Coraggio! Super camion è quasi pieno! Sì! Finalmente è pieno! Urrà! Super camion è riuscito a ricaricare tutti i contenitori di energia di Carseti! Urrà! Ah! Che giornata fantastica! Ehi! Vi state preparando a distribuire cioccolata calda per l'inverno? Mmm! Ha un aspetto delizioso! Oh no! C'è un buco nella macchina! Fai attenzione Walter! Quella cioccolata è scivolosa! Fai attenzione Carrie! La macchina del cioccolato deve essere riparata! Ehi! Oh no! Ehi! Giocate a nascondino! Sì! Super camion! C'è un problema al negozio di Carrie! Carrie e Walter necessitano del tuo aiuto per riparare la macchina del cioccolato! Fai attenzione con il pavimento scivoloso! Super camion! Oh! C'è mancato poco! Devi assolutamente trasformarti! Super camion! Super camion! Super camion! Penso debba fare un po' male! Super camion! La cioccolata continua a fuoriuscire sul pavimento, super camion. Stai cercando di contenerne l'espansione. Sei alla ricerca del pannello di controllo. Ottimo lavoro, super camion! Fai attenzione, super camion! Usa l'ST3000! Vuoi usare il raggio congelatore per bloccare l'uscita del cioccolato? Continua con costanza, super camion! Ottimo lavoro, super camion! Mmm, deliziosa! Oh, grazie super camion per aver salvato la giornata!